E lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ieri gli studenti della Montessori Mirabella hanno messo in scena un grande classico di sempre, il Piccolo Principe, i particolari. Oggi abbiamo i bambini della quinta primaria Montessori che portano in scena il Piccolo Principe e in 30 ore le insegnanti sono riusciti a far esprimere questi ragazzi in questa attività teatrale. Come vedete ci sono sia i cartelloni sia anche le immagini per cui è un lavoro che è stato fatto a 360 gradi, quindi sia sulla scrittura sia anche sulla produzione e sull'espressione dei ragazzi. Quindi è secondo il nostro punto di vista un elemento veramente importante per far socializzare i ragazzi, per relazionarsi con gli altri e quindi essere più partecipi anche in un futuro all'attività del nostro territorio. È stata una preparazione molto lunga, abbiamo iniziato addirittura a dicembre e per i bambini è stata una scoperta perché siamo partiti prima dalla conoscenza della storia del Piccolo Principe, un racconto che è piuttosto introspettivo, aiuta alla riflessione, a conoscere valori quali l'amicizia, l'amore, l'impegnarsi per qualcosa che veramente è importante. I bambini sono stati veramente bravissimi, hanno lavorato con gioia, con entusiasmo, prima nel disegnare tutti i vari momenti della storia e poi nell'acquisire queste conoscenze e grazie anche all'apporto di alcune persone che ho introdotto nel mio progetto, degli esperti, una musicista della Berkeley di Boston che è Valeria Corso, un attore del Teatro Zappalà di Palermo, Marcello Rimi e anche altre persone che hanno collaborato nella realizzazione della scenografia, quale Roberta Cammarata che è un architetto che si è offerta di collaborare in tutto. Anche i collaboratori hanno partecipato, la dirigente, qua anche la dirigente dell'Istituto Tecnico ci ha dato la sua grande disponibilità. Per noi è stata un'esperienza, per noi insegnanti e per loro bambini. Posso dire solo che si è creato un ambiente veramente bello, pieno di affetto, di amicizia, di collaborazione, senza invidia e senza nessun antagonismo tra i vari bambini. È stata davvero un'esperienza molto costruttiva.